Perché poi io sono un po' così, sono cresciuta dentro un istituto, stavo nel cortile e guardavo le aeree e salutavo e dicevo che mio padre faceva il pilota, io mio papà non l'ho mai conosciuto, dicevo che la mia mamma faceva l'hostess, poi per fortuna un giorno c'è stato un incidente aereo e sono morti tutti, quando sono arrivati i bambini nuovi all'istituto gli avevo detto che i miei erano su quell'aereo, allora una sora dite che era proprio così e io ero contenta, lo sai che si diceva, lo sai che si diceva ai carabinieri che avevo lasciato il leoncino e me lo portavano via e lo mettevano dentro l'istituto e non lo vedevo più, mi sa che sei un po' stronza te, come ti permette? Da voi un'altra marena? Con la panna? Con la panna?